Allora, io vorrei una breve introduzione, diciamo, del contesto in cui questo libro arriva in Italia, nel mercato librario italiano. Arriva grazie alla buona volontà e allo sforzo di un editore piemontese, Melus Bianco, un editore di Puneo, che ha accolto la proposta di tradurre questo testo dall'inglese, che in lingua originale è sentita la Warder's Return, ed è uscito qualche anno fa. Ma noi abbiamo pensato che un libro del genere rimanga attuale nel tempo, di fatto questo mi sembra confermato. Purtroppo, proprio perché in concomitanza con l'uscita della edizione italiana, è scoppiato un conflitto che nessuno vi sarebbe mai aspettato, e che è particolarmente brutale. Quindi, pensiamo che il discorso sul trauma di guerra continua ad essere sempre molto attuale. E' purtroppo sottostimato, perché c'è un po' l'idea che i traumi di guerra riguardano soltanto i combattenti, o chi vive e subisce la guerra direttamente nelle zone di conflitto. In realtà questo libro, poi vedremo tutt'alti, mostra che non è precitamente questo. Comunque, tornando ancora al modo in cui questo libro appunto arriva in Italia, lo sforzo dell'editore, Nero Tudianto, è stato supportato, eventualmente da alcuni enti che hanno sostenuto questa impresa, e li voglio immediatamente menzionare con un valoroso ringraziamento. Si tratta del terreno al forno del pane, un'associazione che ha inserito questo progetto, all'interno del loro progetto, chiamato C'è sempre una stella per sé. E poi ci sono la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ecco, questo per far capire che è un progetto editoriale che incontra favore a livelli differenti e in aree differenti, diciamo, anche del discorso pubblico. Questo ci fa molto piacere, proprio perché è un tema che secondo noi deve entrare nel discorso pubblico. Detto questo, c'è anche da dire che alle spalle di questo libro c'è una storia che coinvolge direttamente l'autore Edward Tick, noi traduttori, è quello che è il progetto della rivista Close Encounters in World, fondata alcuni anni fa e ha già pubblicato quattro numeri e di cui siamo editori, redattori, siamo Patrizia, io e Simona Tobia e che è pubblicata dalla Fondazione Mutorelli, un nome che, come vediamo, sta circolando e ritornando. Edward Tick, così come anche Enzo Ferrare, che ringraziamo per l'ospitalità qui al Sereno Regis, Edward Tick fa parte del comitale editoriale della rivista, che è una rivista internazionale, una rivista scientifica e nel momento in cui decidemmo di pubblicare un numero, uno dei numeri tematici della rivista specificamente sul problema del trauma post-bellico, Edward fu coinvolto e riversò una grande energia, una grande passione in quel numero ed è stato in quel momento, in quel frangente, che noi abbiamo capito che era importante diffondere il suo lavoro, la sua visione, anche presso i lettori italiani, in maniera accessibile ad un pubblico più ampio che non necessariamente dovesse essere in grado di leggere il libro in lingua originale. E così abbiamo pensato di tradizionale. Dove è stato, come dire, inserito questo libro dall'editore? L'editore ha trovato una pollana, che si intitola L'Ezzattere, che è un po' ad hoc in questo caso, perché è una pollana che ospita scritture, di fiction o non fiction, dedicate all'uscire da tempi tempestosi, da momenti tempestosi, da frangenti difficili della propria esperienza, attraverso la scrittura, attraverso il raccontare storia. E noi abbiamo visto subito che questo libro di Edward Tick è fortemente in tessuto di storia. Non si tratta di una raccolta di storie, come potrebbe essere per esempio una raccolta di vicende e di esperienze, di storie di vita di veterani, ma continuamente le storie e le testimonianze dei veterani con cui Edward ha lavorato negli anni tornano, compaiono ed emergono nella sua scrittura e diventano parte integrante del suo modo di raccontare. e poi vedremo nel dettaglio che il raccontare le storie è un momento importante proprio della terapia post-traumatica. Diciamo che alla base della visione generale del lavoro di Edward Tick c'è qualcosa che ci ha colpiti fin dall'inizio e che noi pensiamo di aver condiviso con lui anche nella ideazione del progetto della lista che ho menzionato prima. Cioè il fatto di valorizzare il senso dell'esperienza. Valorizzare il senso dell'esperienza nei confronti di un tema come quello della guerra. La guerra è qualcosa che frascende altamente di individui, soprattutto le guerre moderne, meccanizzate, altamente tecnologiche, dove molto spesso si perde apparentemente la dimensione umana del conflitto diretto, il senso proprio del confronto tra avversari e nemici. Per noi invece della vista il discorso dovrebbe incentrarsi sull'esperienza dell'incontro. Cioè in guerra si fanno incontri e molto spesso questi incontri sono assolutamente non scontati, assolutamente non banali. Sono incontri materiali, concreti, con altre popolazioni, con persone che altrimenti non si sarebbero forse mai viste nell'arco di un'esistenza individuale. Fossero anche semplicemente persone della propria stessa nazionalità, ma che vengono da regioni diverse, che parlano di aletti diversi, che hanno culture diverse. L'Italia ha una lunga storia di questi incontri, per esempio in Trincea durante la Grande Guerra. Incontri con altri popoli, incontri con altre realtà, altre culture, con una dimensione della lontananza geografica e via dicendo. A base di questo ovviamente c'è anche la trasportabilità delle storie, dell'esperienza. Mi ricordo un'espressione famosa appunto di un filosofo Walter Benjamin, che parlava dello scambio di esperienza, cioè tornare da un posto lontano è ciò che innetta lo scambio di esperienza tra chi ha visto cose diverse, inusitate, e chi a casa è rimasto mantenendo invece la continuità della vita quotidiana. Il problema, e questo emerge fortemente dal libro di Edward Smith, è che quando si torna dalla guerra non tutte le storie sono così facilmente scambiabili e non tutte le storie sono immediatamente recepibili. C'è un ostacolo di fondo, c'è una resistenza da vincere, che è da entrambi i lati, sia dal lato di chi ha vissuto certe esperienze e trova difficile raccontarle a qualcuno che invece non ha la più pallida idea di che cosa significa essere in guerra, e c'è la resistenza di chi è rimasto a casa, difficilmente immagina che cos'è quell'esperienza, qual è l'impatto della guerra, e in molti casi vorrebbe semplicemente che le persone che sono andate a combattere tornassero esattamente come erano tutte. Il problema molto spesso è proprio qui, cioè che da un'esperienza come quella della guerra non si torna come si era prima, non è semplicemente un avverare l'orologio e tornare al punto di partenza. E questo è una cosa che secondo me è un valore fondamentale in questo libro. Adesso vedremo come questo aspetto viene trattato nella struttura del volume, nei temi che tratta. Io penso che intanto puoi introdurlo un po' tu questo discorso. Sì, beh già vediamo che il titolo è molto significativo perché il titolo in italiano è il ritorno dei guerrieri con questo titolo che dice guarire l'anima dopo la guerra. Noi siamo abituati a parlare di soldati che vengono in guerra nella nostra visione, militari. perché chiamarli guerrieri, perché riprendere questo concetto che appartiene a una sfera di significati un po' diversa da quello che ho pensato. Beh, Edwards riprende questo termine rifacendo un po' la traduzione degli archetipi di Friedman perché il guerriero non è soltanto con lui che va a fare la guerra ma potenzialmente un guerriero come è solo lo definisce spirituale è in ognuno di noi. Ognuno di noi ha una parte guerriera che applica nella vita quotidiana facendo fronte a delle abitità facendo fronte a delle problematiche che devono essere risolte in maniera efficace. E perché guarire l'anima? Perché noi possiamo pensare il trauma in maniera classica quindi considerarlo attraverso il campo della psichiatria e quindi definirlo come una etichettatura specifica che è il PTSD ma questo qui è molto limitato è una concezione molto limitativa perché adesso faccio un piccolo riferimento filosofico questa definizione ci riporta un po' a quella divisione dualistica cartesiana per cui abbiamo la mente, il corpo, la malattia e la sanità e non c'è una connessione organica tra le varie parti e invece Edward Tick propone una visione eulistica quindi non considerare il trauma come una malattia che deve essere curato ma il trauma come una vera e propria ferita dell'anima quindi una ferita invisibile che noi non vediamo come una ferita del corpo ma come la ferita del corpo deve essere riemarginata e quindi per riemarginarla ci deve essere un processo un percorso che richiede un tempo una temporalità e richiede non soltanto la volontà di colui che ha subito la ferita di superarla ma di tutte le persone che sono attorno a questa persona e in senso lato della comunità perché questo? è perché la ferita che si subisce in guerra è un po' particolare la ferita, parliamo adesso della ferita invisibile della ferita del trauma perché questa ferita può provenire da varie situazioni per esempio dall'aver vissuto un'esperienza altamente traumatica come per esempio la morte di un bambino vedere la morte di un bambino da un'esperienza morale quindi un trauma, una ferita che viene da un conflitto morale interno per esempio dall'aver creduto in ideali che sono stati così proclamati dallo Stato che ci manda in guerra è scoprire poi che la situazione reale è molto differente e poi anche un trauma che può accadere nel momento in cui si ritorna e si trova nella propria casa quando si ritorna nel proprio paese un muro quindi un rifiuto un rifiuto di quello che è stata l'esperienza di chi ha combattuto chi ha vissuto un'esperienza di guerra ecco quindi come fare a superare questo impatto come trovare una soluzione che sia la migliore per reintegrare chi ha questa ferita interiore nella società un approccio juristico vuol dire come abbiamo detto non considerare quindi soltanto l'aspetto per esempio psichiatrico perché non credo che Edward poi glielo diremo affermi che le medicine non possono avere un'efficacia ma le medicine essenzialmente non guariscono non tolgono il problema possono essere in alcuni casi soltanto una sorta di palliativi cosa è invece più efficace? Edward Hick volge lo sguardo verso la tradizione anzi le tradizioni che vanno dalle tradizioni degli antici greci le tradizioni della Bibbia le tradizioni degli indiani di America e perché fa questo? perché ci mostra come in tutte le società durante il percorso di tutta l'evoluzione dell'umanità ci sono sempre state delle guerre e ci sono sempre stati dei modi che le società hanno applicato per riuscire a reinserire i loro guerrieri i loro eroi all'interno della società ed è un percorso necessario perché essenzialmente richiede una serie di fasi la prima tra tutte è per esempio quella della accettazione di quel che è stato e della purificazione di quel che si è visto e di quel che si è vissuto che vuol dire accettazione dell'accaduto l'accettazione del trauma beh non è soltanto un'accettazione da parte di chi è rimasto traumatizzato perché come dice benissimo Edward nel suo libro chi ritorna si porta indietro questo trauma e questo trauma poi viene vissuto anche dalle persone che vivono con il combattente ritornato noi parliamo oggi per esempio di trauma generazionale cioè di un trauma che si tramanda di generazione in generazione quindi questa situazione deve essere accettata da tutti dai familiari dagli amici e dalla comunità intera perché essenzialmente quando noi parliamo di una di moralità e di etica dobbiamo comprendere che una guerra è anche se questo qui non ci piace sentire il suo dire però responsabilità di tutta una popolazione c'è una bellissima frase di di Andrè di una canzone che dice anche se voi vi chiedete assolti siete lo stesso coinvolti perché e quindi questo qui vuol dire che il percorso di rinserimento di purificazione deve avvenire con non attraverso questo schematismo cartesiano di divisione tra individuo e società mente e corpo ma un attraverso una prospettiva ulistica per cui l'individuo che è andato in guerra è parte della società e quindi la società deve prendersi cura di questo individuo come si prende cura di tutti gli altri individui che fanno parte della società una 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 via privilegiata è quella del raccontare c'è una bellissima commedia di Eduardo che Napoli milionaria dove lui ritorna dalla guerra e lui ha bisogno di raccontare lui vuole raccontare e tutti quanti invece lo giustiscono e gli dicono è passata è basta perché parlare di queste cose e lui rimane con questo senso di dire ma io devo io ho bisogno di parlare perché perché il raccontare permette non soltanto di esternare con qualcosa che stia dentro ma anche di condividerlo con gli altri ciò permette agli altri di poter comprendere anche se non hanno fatto quella esperienza che cosa si è stata quella esperienza quindi da un lato c'è il bisogno di raccontare ma dall'altra parte ci deve essere anche la la volontà di ascoltare e di comprendere senza giudicare se vuoi anche intervenire puoi farlo se no vado a ruota oppure voglio fare delle domande ci potete tranquillamente fermare sì sì per esempio sono le modalità attraverso cui si può parlare di eventi traumatici collettivi ai bambini quelli della narrazione del racconto magari traslando i protagonisti per esempio in questo centro studi quando dobbiamo parlare di questioni come le guerre i conflitti magari facciamo per eventi molto piccoli facciamo delle narrazioni traslando cioè impattizzando che ad andare a fare la guerra non sono gli uomini ma sono i galli contro i tacchini e in questo modo almeno si dà un tentativo non so se è un esempio calzante questo oppure però la narrazione cioè la possibilità comunque di rappresentare di discutere è una necessità e non è così banale gli insegnanti ci dicono che loro non sanno come fare quindi molti bimbi fanno finta di non avere il problema ma altri invece lo manifestano quindi sarà diversa come livello di analisi ma mi sembrava si potesse aggiungere sì io vorrei soltanto una cosa brevissima su questo in merito a questo argomento effettivamente Edward nel suo libro solleva una una questione che è importante e secondo lui è una questione pregiudiziale nel senso sta un po' all'origine del motivo per cui noi abbiamo un problema nel accettare il ritorno di combattenti che portano storie e esperienze così difficili e che spesso si rispone marginati in questa loro solitudine e in questa loro sofferenza cioè il fatto che noi viviamo un po' in una specie di bolla ipocrita in un certo senso nei confronti della guerra anzitutto abbiamo una specie di analfabetismo militare benché sia un po' ovunque il discorso della guerra anche in forma molto estetizzata cinema letterature e altre cose però si tende a dimenticare e si tende a fingere che la guerra sia diventata una un'estensione di processi politici di pacificazione o che sono forme eufemistiche per dire spiegare il fenomeno ma manca il punto centrale che invece agli antichi era presente sempre con grande interesse cioè il guerriero va in guerra per uccidere in difesa della propria comunità noi abbiamo un concetto anche per esempio della guerra come operazione per esempio di pacificazione o di polizia abbiamo un problema nell'accettare il fatto che la guerra sia anche un fatto di aggressione spesso ci si dipende da qualcuno che aggredisce è inaccettabile pensare che si possa essere dalla parte degli aggressori il fatto è che però in fondo noi non siamo preparati all'idea che qualcuno che torna dalla guerra abbia ucciso abbia dovuto uccidere per difendere se stesso per difendere i compagni e in senso lato per difendere un sistema di visioni di valori eccetera per esempio nel libro vengono spiegate alcune pratiche di reinserimento del guerriero nelle antiche tribù dei nativi americani e viene spiegato anche attraverso le parole e le testimonianze di alcuni veterani americani di origine appunto indiana che erano parte delle forze armate stati intensi ma ancora mantenevano ben vivo la loro relazione con la cultura di origine e quindi portavano con sé come militari delle forze armate americane questa tradizione del guerriero antico e spiegano che i ragazzi i giovani quando venivano avviati alla vita del guerriero alla via del guerriero una delle prime cose che facevano era proprio accompagnare il guerriero nelle battaglie nelle scorrerie o nelle azioni difensive anche non prendendo parte al combattimento ma per vedere che cos'era il combattimento cioè quale sarebbe stata la loro esperienza di guerriero e quando tornavano quindi nella tribù come dire c'era questa forte netta presa di posizione questa consapevolezza che la via del guerriero è una via in cui comunque si pratica l'arte della guerra l'arte dell'ucidere l'arte marziale e questa è una cosa su cui effettivamente noi oggi abbiamo una certa difficoltà nell'ammettere certi aspetti diciamo della della costitualità armata alla base di questo a volte questo a volte sta anche alla base di una potenziale reazione traumatica in chi torna perché c'è questa incapacità di unire le due esperienze e i due orizzonti questa è una cosa importante infatti prima Pazesti ha detto superare il problema del trauma nella maniera del dell'accettare è una cosa importante sì però accettare e trasformare questo è un altro concetto importante nella visione di Edward Tick cioè non semplicemente accettare in maniera passiva come dire facendo facendosi una ragione per lui una cosa fondamentale è che alla fine del processo il guerriero deve trasformarsi in quello che lui chiama un anziano cioè una persona un uomo una donna che può fare di quella sua esperienza un tesoro per gli autori per tutti cioè può convertire la propria vocazione che è stata fin lì quella di essere un combattente in una vocazione di costruttore di educatore e questa è una cosa importante perché significa dare la possibilità di imparare e di apprendere insieme un percorso che diventa virtuoso non è così utopica come visione richiede ovviamente un'educazione a questo tipo di discorsi questo è quello che è importante diciamo che il punto che sarebbe quello di attivare un circolo virtuoso piuttosto di un circolo virtuoso cioè fare in modo che da un punto di vista sociale chi ritorna e chi ha subito un trauma e quindi ha bisogno di cuore ha bisogno di attenzioni per riuscire a superare il trauma ad assorbire il trauma non a eliminarlo perché io penso che il trauma rimanga sempre fino alla fine della vita ma riuscirci a convivere in maniera pacifica e a trasformare quell'esperienza in modo positivo da poterla restituire alla comunità sotto una forma di sapere di wisdom di saggezza che è una cosa molto potrebbe essere anzi è una cosa molto importante per una società cioè riuscire e per le persone in generale riuscire a apprendere la saggezza il sapere non soltanto dall'esperienza diretta ma anche tramite l'esperienza degli altri e qui ritorniamo di nuovo al punto del racconto perché come dicevi tu ma per i bambini certo i bambini hanno una visione ovviamente più semplificata della nostra e quindi hanno una percezione anche della della violenza molto diversa e quindi fare un filtro per esempio facendo delle narrazioni dove si usano gli animali che sono molto più vicini all'immaginario di un bambino rispetto a quello di un adulto io trovo che sia una cosa molto efficace c'è sempre fatto con le favole utilizzare per esempio ciò che c'è più vicino per riuscire a capire ciò che c'è più lontano un metodo per esempio e quindi lo scrivere anche poesie lo scrivere metafore ha questa potenzialità molto forte perché perché ci riesce attraverso l'utilizzo di metafore attraverso del linguaggio poetico noi riusciamo a andare al di là di quelle strutture razionali che poi ci bloccano e quindi riusciamo a esprimere un qualcosa che fa parte di una di una parte molto intima di noi stessi e su questo posso aggiungere semplicemente una osservazione penso che potranno sicuramente aiutarci a capire meglio anche gli ospiti che sono connessi oggi con noi dagli Stati Uniti perché TIC è connesso con noi e al momento lui è in Australia e che invece dagli Stati Uniti sono Charlie Facello e Pax Guariglia ho sentito pronunciato Guariglia in inglese però da noi in Italia è ultimamente automatico Guariglia che sono due veterani di origine italiana e che hanno appunto lavorato con TIC hanno affrontato la loro esperienza di veterani insieme con TIC sono menzionati nella introduzione alla edizione italiana quindi penso che possiamo chiedere a loro appunto se possono illuminare spiegarci un po' quello che per loro ha significato anche raccontare o che difficoltà hanno trovato anche a raccontare o trovare un pubblico disposto ad ascoltare chiediamo direttamente a loro questo punto di va bene passiamo quindi a una fase in cui dobbiamo tradurre lo dico anche per chi ci ascolta per cui chiederei a Gianluca ai statisti di fare delle domande e partiamo con Eduard va bene ok lo metto in prima piano eccolo qua Eduard in diretta ok so we welcome can you hear me can hear us yes yes I can hear you perfectly yes ok thank you ok we thank you very much for being here with us early in the morning in Australia now so it's it's a great honor to be here with us we we have introduced the book the way in which the book has arrived to Italy what we have done and how we have worked together the project of the journal and now we were talking about the importance of speaking about experience of having been in war and having seen and done things that are so difficult to share with the public the society people who have no idea what it is what it means to be in a war so the importance of education to listening to the veterans and their stories and we were thinking that you can say much about this because it's an important part of your method and approach and also that Pat and Charlie also can say something that is very thorough and deep about this yeah I would just si allora faccio una piccola traduzione in italy a small translation for the guests in italy Gianluca ha chiesto a Edvard che per favore puoi intervenire e parlarci della sua esperienza e dell'importanza dell'educazione di un pubblico della cittadinanza che non ha affatto un'esperienza diretta della guerra e quindi quali sono le difficoltà nel riuscire a raggiungere e a far capire le problematiche di chi ritorna a chi invece è rimasto rimasto a casa ho semplicemente detto che abbiamo pure spiegato in italiano l'importanza del metodo holistico che io ho contraposto a quello dualistico del cartesiano e soprattutto l'importanza del dialogo grazie mille grazie mille buonasera amici miei and that is all that is all I can deliver in Italian I am sorry but I welcome you all I express my deep gratitude for all of you for our collective work on war healing non-violence and peacemaking I hope and I trust that our journal Close Encounters in War all of the work that you together are bringing out to the world and this translation of my book Warrior's Return will contribute to our collective mission for war healing and peacemaking ok Ed si augura che il lavoro comune che facciamo con la rivista presentante su War e gli sforzi profusi per la realizzazione anche di questa edizione italiana e della costituzione del suo lavoro possano contribuire a fare rendere il mondo un po' più attento al problema delle guerre e ad aiutare chi appunto deve affrontare questa esperienza che si face I'm greatly honored to be with you tonight I cannot express how deeply moved and honored I feel that you have valued my work and brought it to our journal to your country and that we are in this mission together Quindi ci ringrazia moltissimo e molto onorato di essere qui e ringrazio appunto per aver dato questo risalto al suo lavoro per distribuirlo anche qui da noi and to me it is especially important that this book has come to Italy and that in Italia you are doing this work because we all know but we must affirm and the world must appreciate that the roots of western civilization come from your land and from the Mediterranean region and so much about all of society all of civilization the way we order civilization our laws our social organization and our history of war and war making all come from Italian roots and have been with us for thousands of years so although you don't have many veterans now in these modern wars the importance of Italy in understanding the world history of war the transgenerational dimensions and the contributions to civilization and to its healing are of utmost importance so wonderful and critically important to the entire world that this work is being done in Italia ok è molto contento del arrivo del suo lavoro in Italia perché dice benché l'Italia non abbia recentemente avuto una storia di partizione in conflitti così importante o significativa magari in termini numerici come in altri paesi per esempio gli Stati Uniti dice però l'Italia fa parte di quella regione il Mediterraneo dove è nata la nostra civiltà attuale occidentale e moltissime e profonde radici della nostra civiltà per esempio un intero apparato di leggi e anche una lunga tradizione di cultura guerriera deriva proprio dalle lontane origini dell'Italia della cultura italica e italiana latina italica e poi italiana dice quindi in termini anche transgenerazionali è importante valorizzare questa continuità una cosa importante a livello addirittura globale dell'Italia so before going farther with deeper opening remarks I do especially want to thank and honor you Gianluca Cinelli for the thousand gifts you have given to us to all of us the world and to me you use my work in the journal your writings and contributions are very important you've invited me on the board you and Patricia did this translation together and thank you all to everybody on the journal for publishing many of my veterans from the US and abroad and our colleagues and for truly making this an international effort and to thank you have invited to the world for have done this effort di traduzione e di aver accolto anche nella rivista, questa è una cosa che non avevamo detto, thank you, per aver accolto molte dei racconti e delle poetie dei veterani in una pagina dedicata appositamente ai racconti che si trova sul sito di Sottotitoli. And you too, Patrizia, thank you, I thank you and honor you for your work on this journal and on our board, in this mission, and as co-translator of my book, so you can thank yourself pubblicly as well. I learned a lot of stuff, I was so ignorant. Well, we could talk about that all night as well, because we are all ignorant about war, about its true nature, and about how to heal it. Our veterans know that, but they are not speaking very much to the rest of the world, the world is not listening, and so we all need to be educated in war, everything about it, and not only how to heal it, but the wisdom, the life wisdom that we draw from it, and I hope our warriors will talk about what we together call warrior wisdom, which is really needed for everyone. Yes, he says that we are all quite ignorant about what is the war, what is the real nature of the war. The only ones who probably know in the fond are the veterans, who have lived, but unfortunately the veterans don't talk much about the world of these things, and it is a great opportunity that we have now, to listen to them, to listen to them, and to acquire in this way what he calls the warrior wisdom, which is the Sapienza Guerriera, which is a concept that has a that has to do with what he has to do with what he has to do with the war. And perhaps you may also explain better what he intends with the expression of warrior wisdom and the spiritual warrior, to help us better understand what these ideas are. We will plunge into them, and I will, we will share some of that as we go along. I just also, before I say any more, of course, I want to thank our publisher, Sabrina Ferrero and Nudo Subbiano for publishing this book, and tonight's host and the, our Center for Studi Sergio Regis, forgive my pronunciation, but Enzo Ferrara, thank you very much for hosting this event, for publishing the book. And for everyone who is attending remotely, blessings upon you all. Thank you for being here and for caring about this material, and especially any military and veterans and other trauma survivors we have present. You, we need you here, we need the wisdom that comes from your living experience, and so thank you for being with us. Allora, ha ringgastato il Sereno Regis che ci ha ospitato, Enzo, la Sabrina Ferrero, e la capititrice che ha ospitato la traduzione del libro, e soprattutto anche i veterani che partecipano e che ci seguono anche da lontano, dall'America che sono connessi, e quindi perché è importante se dare giuro la parola e ascoltare. So, okay, so to share some thoughts and deeper opening remarks with you, I will take my theme for next for my remarks, from our journal Close Encounters in War. Close Encounters in War both wound terribly and heal in amazing and blessed ways. Okay, so, sorry, just the first part, not to lose it. Prima di andare avanti volevo dire alcune cose su questo concetto che sta alla base della rivista in cui collaboriamo, Close Encounters in War, perché dice che gli incontri rafficinati in guerra hanno una doppia faccia, cioè feriscono ma possono anche contenere i germi di una crescita, della guarigione e stessa del trauma che causano. So, of course, we all understand that Close Encounters in War cause massive trauma. And this is true no matter how near or distant from a battlefield, from a combat zone a warrior is, because killing another human being is the most traumatic event that anyone can experience. So, killing itself is a close encounter, even if you are on the other side of the world pressing buttons, even if you are a drone pilot, you are still having the most profound encounter with another human being by trying to take each other's lives. Okay, so, Annara, la question è che questo incontro è così importante, questo incontro rafficinato in guerra, perché non importa quanto possano essere lontani tra di loro, gli individui che si combattono. Si potrebbe anche essere dall'altra parte del mondo e schiacciare un bottone, o essere un pilota di droni, il semplice tentativo di togliere la vita di un altro essere umano è l'esperienza più traumatica che si possa vivere, e il tentativo di togliersi la vita a vicenda, in guerra, rappresenta appunto un incontro profondo e invenevo. So, to heal such wounds that are so deep, that are truly holistic, the wounds that we call post-traumatic stress disorder, are to the mind, to the heart, to the body, to the soul, to the spirit, to the community, to the nation, to the entire world. So, these wounds are comprehensive and massive and must be understood in this holistic manner. And, to heal them, we must facilitate close encounters again. Ok, queste le ferite che vengono causate da questi incontri sono delle ferite che vanno al di là della dimensione puramente psicologica, che è individuata con questo acronimo del Post-traumatic stress disorder, il PLD, sono delle ferite che colpiscono lo spirito, la mente, il corpo, l'anima, gli individui, le società, e per estensione danneggiano il globo, perché tutti siamo interconnessi. Quindi, necessariamente, ragionare su l'incontri avvicinati in guerra è un obbligo ed è una necessità. alla fine. And this means that we must learn to love and to honour all of our veterans, all of our warriors, all of our survivors. We must, with them, comprehend the horrors, the inferno, that they have experienced and together, only together, can we restore humanity to all of us. Quindi l'unico modo per ristorare, per ristorare l'umanità compromessa e danneggiata da questo tipo di incontro con la violenza della guerra è riconoscere, ascoltare e onorare i veterani sopravvissuti perché da loro si può apprendere cosa hanno vissuto effettivamente e che cos'è questo inferno in cui l'umano scende dalla guerra. E questo, in my mind, è uno dei mistakesi che la trama field in mentalità ha fatto. Restoring l'umanità, sharing le storie, compreendere ciò che i guerriori hanno stato fatto, non succede per us portare loro in nostro mondo. No matter how good our intentions, if we are out here in the world that did not experience war and violence, and we do our best with great intentions and psychological theory to get them to join our world, It will not work because the entire warrior history, warrior ethos experience will be cut off and they will feel like they need to pretend to be civilians and do their best to adapt, but the war wounds and memories of the trauma will remain underground. Dick ci ha spiegato che un classico errore dell'approccio comune che noi facciamo a questo tipo di problemi è quello di pensare che i veterani possono semplicemente baltare dentro la nostra percezione, e quanto ci sforziamo di averla curata su che cosa sia un'esperienza di guerra e di pensare che loro possano interagire con chi vuole far parlare della loro esperienza come se fossero dei civili, come se non avessero fatto un'esperienza di guerra. E questo non funziona, non è possibile perché bisogna fare l'opposto, perché è il civile che deve saltare, fare uno sforzo di raggiungere il veterano là dove è. So this is the other side, the positive side of the close encounter, that we must enter into our warriors and our survivors' lives, we must enter into their inner worlds, their inner lives, and we must share the journey that they have been on, and together guide this journey out of the inferno of the soul. Ecco esattamente, quindi ha concluso questo ragionamento dicendo che dobbiamo noi cercare di entrare nel mondo di questi veterani, nel loro mondo mentale, nel loro mondo intimo, e insieme imparare a compiere questo viaggio che li porti fuori e lontano da quell'inferno in cui loro sono rimasti in un certo senso intappolati, ed è quello che li rende appunto così, diciamo, traumatizzati, per costruire qualcosa di diverso. So to illustrate this, I would like to share a story, and I'm sorry, but I'm going to challenge my good friends to translate a poem with me. And I know the spontaneous translation of poetry is rather challenging, but it doesn't matter, we'll do our best together. Okay, so this poem has appeared in our journal Close Encounters and War, and thank you for first publishing it there. I have had another book published very recently called Coming Home in Vietnam, and this poem is in that book. Okay, allora la storia di Pong, che ha già raccontato tramite la nostra rivista, la sua vicenda, e recentemente ha pubblicato un altro libro, una raccolta di poetia, molto bella, che si chiama Come Home in Vietnam, e anche lì appunto Pong è presente. And again, this is to illustrate both forms of Close Encounters, the Close Encounter during warfare that causes massive trauma and can infect and ruin a life, and the Close Encounters we can have and we can facilitate afterwards that bring extraordinary hope and healing and restoration beyond anything we could imagine in ordinary daily life. La storia di Poe mostra la doppia faccia di questo incontro ravvicinato. Da un lato durante la guerra, quando può essere terribile, devastante e distruggere un'intera vita, e dall'altro dopo la guerra, quando in maniera imprevista e al di là di quanto noi potremmo addirittura immaginare, questi incontri sorprendono e possono essere fonte di rinnovamento. So, this poem is the story of a veteran, a young Marine who was 19 years old. This battle happened on his 19th birthday. So, there's two stanza. The first stanza is the story of what happened to him in combat when he was 19 at a small firebase in Vietnam, and his unit was attacked and overrun by a suicide attack from the enemy. Allora, la storia è quella di un giovane marino di 19 anni che in Vietnam fu attaccato dalla base di vera distanza durante il giorno del compleanno in un attacco-suscita da parte dei coeritori. The Americans killed 300 of the enemy during this battle. They buried them in a mass grave. This man had nightmares for over 40 years of those dead soldiers crying out to him, screaming, they want to go home. Return us, return us, return us. And it tortured him. Gli americani uccisero molti avversari in questa occasione. E la sepoltura fu fatta in masse, in forse comuni. E questo ricordo di questi soldati lo ha perseguitato per tutta la vita, per oltre 40 anni. Parlo di incubi notturni. Con incubi notturni, eccetera. Yeah, so that was his first encounter. That was his first encounter. The second stanza is the second encounter. I brought him back to Vietnam. We found the very place that this battle had occurred. We returned the grave to the Vietnamese. And he expected to be treated as a criminal for what he had done to their fathers, their grandfathers. Instead, he was treated as a saint, returning the souls of their lost loved ones to them. And so you'll hear in the second stanza, the other close encounter. When we go back, when we have the courage to go into the encounters together, to tell the stories, to practice atonement, to make the stories shared and collective, and to complete the story through our healing efforts. That happens in the second stanza. Quindi, fino adesso ci ha raccontato il primo close encounter, il sottimo incontro con la guerra, e adesso ci dice il secondo, quando lui ha conosciuto questo ragazzo ed è ritornato con lui in Vietnam, dove questo ragazzo si aspettava di essere trattato come un criminale, ma così non è stato. E quindi qui è avvenuto il secondo incontro con la guerra, sono venuta a vedere anche queste forse comuni, ed è stato invece la parte positiva di questo incontro, che poi ha continuato anche con il raccontare questa esperienza. E poi c'è un terzo close encounter, che è quello che ha vissuto in prima persona, Edward, perché lui ha raccontato nel poema, in prima persona, facendo proprio l'esperienza di questo ragazzo, e quindi in qualche modo questa sua esperienza, quello che dicevamo prima, è stata di insegnamento a si stesso, ad eso a si stesso. So this poem is called Praying. E il titolo della poesia è appunto Pregare. Mai nella mia vita ho pregato così fortemente come quel giorno. At the smoking bottom of this mountain. Dal fondo di questa montagna fumante. Among giant boulders and fallen trees. Tra massi giganti ed alberi caviti. Quando il nemico superò i nostri reticolati. 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 Io portando magro, morte e distrazione. Yeah, feel free to paraphrase. Thank you. Okay. And sprouted like crazy rice stalks no farther away than the length of my rifle. Sparando e sforzando la morte non più lontano della punta della mia baionetta. And our muzzle holes became God's raging eyes. Okay, that's the first encounter when he's 19 years old. This is the second encounter when we go back. Alla fine adesso ci ha detto la poesia, la parte della poesia che riguarda il primo, Closin Campus, e adesso parla del secondo, Closin Campus. Never in my life did I pray so hard. Mai così forte ho pregato in vita mia. Until today, on the cloud crowned top of this mountain. Among smiling statues and burning incense. Tra stati sorridenti e incendi che bruciano, il fumo di incendi. Quando i bambini hanno preso la mia mano e mi hanno chiamato il Dio. And the monks bowed to me as if I were a saint. E i monaci si sono inchinati davanti a me come se fosse un santo. And I embraced their dead as my true brothers. Io ho abbracciato i loro morti come se fossero i miei dei fratelli. And God's loving eyes gazed through my torn and mending heart. The rest of this story is that after this close encounter returning to Vietnam. After the village honored this man for bringing the spirits of their loved ones back. He continued to return to Vietnam on his own after that. He fell in love with a Vietnamese woman. They got married. They had children. They now live in both countries. And he helped support the Vietnamese family really as his own. So the horrible close encounter of war became a loving international marriage and family that helps heal both sides and all of us. La terza parte di questa storia, il continuo di questa storia, è che questo ragazzo, ormai diventato un uomo, è ritornato più volte in Vietnam, ha trovato l'amore lì, si è sposato con una vietnamita, adesso vivono tra le due nazioni e lui ha aiutato moltissimo. e lui ha aiutato a ricostruire il vietnam, quindi quello che è iniziato come una storia di orrore, di orrore, è diventata poi una bella storia di riconciliazione. internazionale che aiuta a guarire in trambi i popoli. We could say, we could joke and say, that is the best way of restoring international relations between countries after they've been broken. Questa sì, possiamo dire che questa è la via migliore per riappacificare due nazioni dopo che hanno avuto una fattura così forte. Thank you, thank you very much for your participation. Yes, it was a very, very, very beautiful testimony. È stata una bella testimonianza di cui ringraziamo molto Ed. Luca, si vorrei fare delle domande anche a parteciarmi e delle… te lo facciamo noi. Vai! We would like also add, I'm sorry if I jump to also the other guest, perché è molto bello di hearo cosa che si può dire la cosa che ti ha detto di raccontare la riconciliazione, l'attornamento e la cosa di sharing come difficulti è stato e come afflittabile in loro esperienza quello che ho chiesto agli altri due ostri è se potessero dirci ancora qualcosa sulle cose che ha appena spiegato Ed cioè quanto nella loro esperienza è stato importante, difficile ma anche una fonte di elevazione il poter condividere le loro esperienze e se quindi potessero anche condividerle con noi oggi sarebbero una cosa molto bella so we have Charlie Hello Charlie Ciao Buongiorno Buonasera 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 and my family in italy the capras dealt with the war from world war ii there as the germans were coming through the towns and they had to go hide up in the mountains uh to avoid the germans and then when they uh at night they would come down to feed the cows so there was a transgenerational trauma ward trauma that i carried within me that uh i ended up having to 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 heal also the family of origin italian which is the origin of the city that I mentioned in the precedence has had an experience quite traumatic in war because during the second war mondial when the tedeschi had invased and traversed the city they were forced to hide in the mountains and then and when my wounding happened as uh working in the nuclear warfare program uh it was like somebody i was working in these uh mobile survivable ground units that would only conduct end-to-end nuclear war and so it was my responsibility to make sure that this is operational for people to conduct it and that was a violation of my soul that was a violation of everything that i stood for as a human being that is not why i signed up for the military why i signed up was to preserve protect and honor life not destroy it not destroy it and so that was my moral injury all along with this long experience of his family his particular experience in the military life that led to this unit of intervention and of the liberation which is somehow being found in nuclear power and he has been found in the war and that he has been found in mystery because it is not believed in the war and that he said it is not more and that he said that his kingdom is found in the war and that it is not messo in condizione di non poter più supportare questo ruolo che aveva nella guerra nucleare, nella guerra del deterrente nucleare. La sua esperienza, l'ufficiale, dell'aeronautica, laureato, diplomato all'Accademia Militare Aeronautica, finisce appunto in queste unità di guerra atomica e durante lo svolgimento del suo servizio l'ho iniziato ad accusare dei sintomi di sovraccarico emotivo, mentale, con forti e terribili incubi notturni da cui si stegliava completamente sudato e paralizzato dal terrore, incubi di apocalisse nucleare di cui lui avrebbe potuto essere appunto responsabile con la sua attività e questo gli ha fatto capire che non era ciò che voleva e che qualsiasi sforzo lui facesse per fare il suo dovere di militare altro non era che contribuirà la corsa verso questa distruzione nucleare. So, after this, I would drown myself. You know, before I met Dr. Tick in his work and reading the book War in the Soul and Warrior's Return, I followed a long path of drug and alcohol abuse, suicidal contemplation, depression. It was like my soul had left me. I was trying to feed myself just to feel good. And it wasn't until I hit rock bottom and was introduced to Soldier's Heart at the time that my path towards healing began. Lui, prima di incontrare Edward, prima di essere improdotto a Soldier's Heart, e poi diciamo che era una società che aveva creato Edward's Heart proprio per aiutare i veterani di tutte le guerre. Stanley sentiva che l'anima lo aveva abbandonato, era diventato autorizzato, aveva spesso pensieri di suicidio e non aveva più nessuno scopo nella vita. La vita non aveva spettificato. It was the language that Dr. Tick was saying in his book, in his workshop, in the place, the retreat that I was at. It was like my soul was starving for what he was saying. And here was a home that I could work through and walk through a whole process that I was unable to understand. And that connected and related to my, the warrior that had been wounded in me. And that had been wounded in all of my family, you know, from my grandfather to my dad and all of us, that this generational thing that I had been carrying, actually had a language now that I could use to walk through these wounds. and I didn't have to do it alone anymore. And that was huge. La cosa più importante in questo incontro è che nei workshop, negli incontri, nei ritiri che Ed organizzava con il personale di Soldiers Hunt, Charlie ha trovato per la prima volta un linguaggio per articolare questa ferita che lui si portava dietro e che ha capito essere una ferita che avevano subito anche i suoi predecessori nella sua famiglia. E questo gradualmente l'ha rimesso in relazione con il guerriero interiore, con il combattente interiore che ha subito questa ferita. L'importantissimo dice aver trovato un linguaggio per parlare finalmente di questa esperienza. It allowed me to be able to finally face and to understand what happened to me on the deeper levels. It allowed me to be able to mourn the loss of my innocence, to connect and accept the fact that I was asked to do things that went against the right way. it was anathema it was against the right way i went against my soul and to be able to put the pieces back together i was like reconstructing and rebuilding the warrior in me so that it could return back into society to be able to help to heal and to transform this experience was to have the opportunity to understand what happened, what was the experience that he had made and to put together gradually the person, the personality, the inner combat, to find this energy perd and above all, I have mentioned the word anathema, disinnescare questa dimensione, diciamo, maledetta dell'esperienza, intrappolata e priva di senso, non articolata, ecco questa è la cosa importante sorry we've brought our faith to this now that's what i think and so now it's what i, because of the work that i have done with that and working the warrior's return and coming back from the point of wanting to end my life to now having my own private practice working with veterans and others to heal trauma through theater and through the creative arts to be able to have my own tv radio show helping others to heal from trauma and ptsd it's all attributed to uh dr tix work and so um it allowed me the path uh to find my way home e quindi di disinnescare l'età questo fatto di maledizione gli ha permesso di ritornare alla società e di dare indietro anche la società quindi lui adesso eh lavora con i veterani e aiuta a un suo canale eh radio tv eh dove appunto aiuta a capire anche gli altri che tipo di di percorso possano fare per eh riusciti anche il che il richie a ritrovi che è riusciti anche la proprietà e al ritrovare la proprietà okay that that was very very inspiring thanks very much ah thank you grazie mille 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 grazie a te cari grazie mille very nice to have you here with us and um it would be beautiful now to hear also from pat Hello everybody. So where to begin? I was a Marine in Vietnam. I joined the service. I was in, I was in, going to college. I was 21. And my reasons for going to Vietnam were that I had read when I was a child, a young man, the rise and fall of the Third Reich and what the Nazis did to the Jews and the other unfortunates that they got a hold of. And in my naivete, watching what was happening in Vietnam, I thought that the communists and the North Vietnamese were doing the same thing to the South Vietnamese. And so I needed to step up to the plate and to protect them because I didn't want to see what happened to them. I didn't want the same thing to happen to them that happened to the Jews in Europe. So that's why I joined. I want to just translate a little for the residing guest. So I'll translate it. I'll translate it for a moment. Ok. Ok, Pat e' stato un Marine in Vietnam, ha partecipato alla guerra quando aveva 21 anni. E il motivo per cui partecipò a questa guerra è un motivo idealistico. Lui sottolinea che ha anche una radice diciamo di una certa ingenuità, una naivetezza. ovvero il fatto di aver creduto che i comunisti in Vietnam a quel tempo stessero facendo quello che i nazisti avevano fatto durante la seconda guerra mondiale e lui ha sentito il dovere morale di farsi avanti, di fare la sua parte per evitare che una popolazione dovesse soffrire quello che gli ebrei avevano sofferto durante la guerra. Questa era la visione con cui lui ha pensato di poter partecipare a questo? So the reason the reason I joined I want to say it as many with many other veterans is because I wanted to do what I thought was the honorable thing. And then I got into the crucible of what war is. And my best friend, my blood brother, we cut each other's hands and became blood brothers, was killed by the Viet Cong. And I became a very angry person, a berserker, wanting to kill every Vietnamese soldier that I could find. Dunque, lui quindi partì per il Vietnam e aveva uno suo caro amico, anche un amico di sangue, avevano fatto un fatto tagliandosi la mano e unendo i propri sangue. Lui è stato ucciso dai Viet Cong e quindi da quel momento in poi lui ha sviluppato una rabbia e una crescente molto forte. Eccolo. 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 Pipotto. I found out in the Long Run that you can never get even. So I returned to the states. And basically hid away from everybody for 20 years. Just trying to forget what happened to me. And by fortune and good luck, I wound up seeing Dr. Tick for some psychological help. And when he returned to the United States, after the war, he was hiding for about 20 years, trying to not renovate this pain. So when I first went to see Dr. Tick, I still had very strong hatred for my former enemies and an abiding hatred. I thought of them as subhuman almost, because that's how I had to feel to do the things that I did over there. And through Dr. Tick's help and lessons that I learned from him, I learned to embrace my warriorhood, but also to understand that the men that I was fighting against were also warriors. Yes. Quando ha incontrato Tick, aveva questa forte rabbia dentro di sé e considerava un fortissimo odio nei confronti degli avversari di allora e li considerava una pessima idea di loro. E quello che ha appreso da Tick è stata la necessità, l'opportunità di abbracciare, di accogliere interamente il suo passato, il suo passato di guerriero, di combattente, di riconoscere che questa era una parte di sé e soprattutto questo gli ha permesso di capire che anche gli uomini che aveva combattuto erano guerrieri, erano il suo aspetto speculare, erano guerrieri anche loro. So, over the course of my long relationship with Dr. Tick, who is a wonderful man, by the way, we've known each other for many years. And about four years ago, Dr. Tick asked me to write a letter to my enemies in Vietnam for Veterans Day, a meeting where the U.S. combat people were getting together with the North Vietnamese Army and the Viet Cong. and he asked me to write a letter to them for Veterans Day. Tick mi chiese 40 anni fa di scrivere una lettera, una lettera per quegli uomini con cui aveva combattuto. e peraltro questa lettera è, aggiungo, non soltanto presente in questo libro, come anche la storia sia di Charlie che di Pat, ma questa lettera abbiamo avuto il piacere e l'onore di poter pubblicarla sulla rivista Close Encounters in War. I just added that we had the honor and the possibility to publish your letter in the journal, as well as it's present here in the book. So I just added that for the public. Well, so the conclusion I came to, of course, was that at first, by the way, I didn't want to write the letter at all. I said, no, I don't want to do that because I was still very angry at my enemy, even after all these years. And then after writing the letter, I guess you are familiar with it, but after writing the letter, I realized that if I had been born in Vietnam and had seen what the Vietnamese seen, that I would have become, probably would have become a Viet Cong. And that absolutely amazed me and was a transcending moment in my healing to realize that I could have been on the other side just as easily as I was on my side. And it's somehow that cemented my humanity with the Vietnamese. And since then I am in correspondence with some of the Vietnamese that were actually fought against me. And we see each other as brothers. So, of course, I didn't want to write this letter. I'm afraid I was still afraid of it. But in the moment in which he did, 40 years after the war, he realized that it was a moment of great transcendence, a real illumination. He realized that if he was born in Vietnam, who had seen what the Vietnamese had seen during that war, he realized that he would probably have become a Viet Cong. He would have taken the part of those who fought for defending their own land. And this was a moment of illumination. From then, he was also in contact with some of these people, who had fought for years before. He realized that he had made a similar experience with them and that he considered them as their brothers. So why I think the work that you guys are doing and Dr. Tick is doing with War on the Soul and Warriors Return is a couple of points I'd like to make. One is that to the veterans out there that I know that most of them joined the service because they wanted to do the honorable thing. So I want them to be proud of that, that they joined the service to do the honorable thing. The other thing is that I would like the civilians to have a deeper understanding of the work that these silent warriors have done and to try to have them come out of the shadows and tell their stories so that the civilian population can have maybe some of the wisdom that we have learned on the battlefield. What he knows, what he knows, what he knows, what he knows as a great merit to the work of E. It is the fact of creating the condition to tell these stories from these soldiers, with whom he is a veteran, with whom he feels to share a lot of reasons. Because the majority of them have decided to go in war, to choose the military life, convinced of doing the thing, to do the thing, to do the thing. But from the other side, there is the other face of the medal, which is the presence of the civilians. He explains that it is important that the civilians learn how to understand the stories of these soldiers, to understand what they have lived and to acquire at least a part of the experience and the wisdom that the veteran has conquered on the battlefield. The last thing is that it is very important that the veterans be able to tell their story to an audience that wants to hear their story. And what you're doing in promoting this book, I think, goes a long way in doing that. And I plead with the veterans that are out there, don't remain silent. Come out and tell your story. It's very, very important for everybody. Again, thank you so much, guys, for doing what you're doing. Thank you, Dr. Tick. Thank you. So I conclude by saying that it is very important for the veterans to talk, and therefore, I invite all the veterans to talk and to talk, to tell and to tell the experiences for everyone who wants to listen. And you have said that everybody has learned how to listen. I would like to end with one thing, and that is to tell you the extent of my Italian is cannoli and mozzarella, and that's it. My parents, I'm second generation Italian, my dad was in World War II, and, but they never taught me any Italian, so I am very disappointed in that. You have time to learn. Time to learn. That's right. Thank you again. Thank you. Allora, noi ringraziamo il pubblico, tutti quanti, tutti coloro che hanno partecipato a questa presentazione. Grazie Simone. Ringraziamo veramente di cuore Edward Sandi. E se c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare possiamo leggerla da remoto e farla. C'è Simona. Ciao, Simona. Ciao. Ciao. Chiudo la porta un secondo. Non ho il primo risultato che poteva fare rumore la mia bimba di là. Allora, lo devo fare in inglese o in italiano? Come vuoi, se lo fai in italiano poi traduciamo in inglese o viceversa. Vabbè, dai, allora lo fai in italiano. In italiano, ok. Allora, volevo ringraziare tantissimo tutti voi per questa cosa che avete fatto succedere, soprattutto grazie a Gianluca perché penso che sia stato tu il primo ad entrare in contatto con Edward Tic. Quindi se non avessi saputo captare l'importanza di questo lavoro, probabilmente oggi non saremmo, non saremmo qua. È stato interessantissimo, sono veramente elated, inspired da questa serata, dal lavoro che avete fatto. Non posso usare la prima persona plurale perché in realtà l'avete fatto veramente voi. E più che una domanda, io avrei avrei un commento, però mi piacerebbe sapere che cosa pensano tutti loro su questo. Allora, allora direi, fanno in inglese. La fanno in italiano e poi la dividito in inglese. Eh, fanno in tutto due, in italiano e in inglese, vai. Ok. So far, I just thanked Gianluca for, you know, including Edward Tic and everybody else in this project, in the Closing Couch and Couch in War project, because I think it was thanks to him primarily that this is happening. So that's essentially what I said up until now. I also said that I feel elated to be here listening to these stories. I feel inspired and I feel that this is extremely important work. And I have a comment rather than a question, but I would be interested in knowing what all of you think about this. is just basically I have been teaching a class on the politics of American memory. And of course, this includes the memory of war as well. You have to think that this is taught to a European audience. And so it's very basic from an American perspective, probably. But my students were very interesting in learning about the experiences. not the experiences, really, but the memories of the Second World War and the memories of the Vietnam War, because we have more accounts of things, of bad things, of bad behavior, of things gone wrong and of trauma about Vietnam than we do of the Second World War. And they were obviously particularly interested in working on the representations and the memories told through, you know, documentaries and interviews of the My Lai Massacre. I know that there were other instances of such experiences in Vietnam, but that's about the extent that I went to with my students. And so right now, I was thinking, rather than using more traditional type of documents with these students to address these issues. It just strikes me how interesting it would be if they could access some of these accounts, some of the personal accounts, which, of course, I can let them do through the through the journal. Do you want me to translate, Gianluca? Soltanto un assunto per spiegare che cosa hai chiesto? No, semplicemente ho chiesto, ho fatto un commento sul fatto che appunto mi sono trovata ad insegnare un corso sulla memoria negli Stati Uniti e quindi anche la memoria di alcuni conflitti ne fa parte, tra cui la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra del Vietnam. Per quanto riguarda la Guerra del Vietnam, gli studenti sono stati particolarmente colpiti dall'esperienza di un evento che viene ricordato come il Massacro di My Lai, che è un evento dove i soldati americani hanno, beh, si sono resi colpevoli di un evento come quello che raccontava la poesia nella prima strofa, credo. Non so quale fosse quello a cui la poesia facesse riferimento, però mi sembra una cosa abbastanza simile. E quindi volevo chiedere, volevo sapere che cosa loro pensano della possibilità di utilizzare al posto di documenti più tradizionali, come possono essere articoli o discorsi, documenti invece come questi racconti di esperienze vissute in prima persona, ma racconti fatti con proprio lo scopo di guarire e di utilizzare appunto questo tipo di fonti con degli studenti che sono dei ragazzi di vent'anni, essenzialmente. Grazie mille, 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 gra we are not pathological war itself is pathological so we are always talking about studying the way human beings are civilization is taken apart inside us and we are reduced to the most primitive and bestial conditions that's always true in addition to that you're studying the mili massacre and other atrocities certainly those happened and mili was only the worst of many atrocities during the vietnam war but there are always atrocities in war always and i have worked with world war ii american world war ii veterans who could not admit the atrocities that they participated in because of the myth of the good war you can only tell good war stories as if you were an honorable soldier and then the atrocities tortured them for decades and decades and decades until they have the opportunity to confess them and atone that being said i believe that the more immoral and unjust a war appears to the soldiers fighting it the more they are prone to atrocities we see that happening in ukraine uh it happened in vietnam when people especially when people no no longer believed in the war became berserkers lost their inner sense of honor and morality and then were just in this primitive condition of kill or be killed so there will always be atrocities they will be worse to the degree that the war is judged as wrong immoral unjust so sorry that i have to quickly translate i'm sorry i forgot yeah so um okay he said that uh uh no 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 ma in guerra ci sono tantissimi di questi avvenimenti ed è difficile per molti poter raccontare questi di aver partecipato dei massacri perché c'è questo mito che andiamo con i soldati della seconda guerra mondiale della guerra giusta ok e poi ha detto il problema è che diventa ancora peggio gestire e sopportare queste atrocità quando il soldato si rende conto o matura una sua scetticismo nei confronti della guerra in cui ha coinvolto perché la sua guida morale smarrisce e quindi diventa più difficile riuscire a sopportare a fare i conti con queste situazioni e ha fatto l'esempio di troppo che accade appunto in ucraina dove per esempio la violenza attuale su civili e le distruzioni mettono sempre più in difficoltà cercare di spiegare perché si sta facendo tutto questo un po' molto molto breve commento è che abbiamo bisogno di raccontare le storie di moralo coraggio in guerra, di fare le right cose, ho anche lavorato con molti guerriere che stoppedi attrociti, che non hanno chiesto, 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 e loro storie non hanno chiesto, e loro storie non hanno credo, come in realtà non hanno chiesto, come in realtà deve essere�utato a un warrior di utmost ethicholamo, e loro storie che non hanno chiesto, perché non hanno chiesto di studiare senza sulla sviluppo dei storie dip They're courage in not killing as well as the other. Yes, Pat. Translation. Just a quick translation. Yeah, let me translate and then you speak, sorry. Perché? Perché questa storia non rientra in quel modello che invece è stato dato di quel tipo di guerra e di quel tipo di soldato. E loro portano vergogna. E quindi sì, alcune volte arrivano persino ad avere vergogna di aver fatto la cosa giusta in guerra. Quindi essenzialmente possiamo dire che la cosa migliore è non applicare dei modelli già precostituiti alla comprensione, ma di capire l'evento in sé. So, we just can say that the better thing to do is not to apply a pre-concept, a pre-model, to understand what happened, but to understand the thing in itself, what is going on, not just to take a model and say, okay, you have to enter in this model. Okay, so Simone, I would like to counter what happened in my life with some of my own experiences and as angry and as mad as I was against Vietnamese, the Viet Cong and the NBA, I nor my squad ever, ever did anything to hurt a civilian and we would do everything that we could to protect civilians and I have a story, I was passing an old dump outside of Da Nang and there was a young girl there and she was trying to get food out of some cans that had been left there and she was trying to get food out of some cans that had been left there, that there were rusted cans, there was nothing in those damn cans and I stopped the truck, I got out and went up to the girl and I gave her whatever food and whatever money I had and I tried to this day, I regret that I couldn't figure out a way of putting her in my arms and taking her home with me. Thanks Mark. Thanks Mark. Thanks Mark. Thanks Mark. Spiega che queste cose che ha detto Thich sono vere e lui ha l'orgoglio di poter dire che la sua squadra, che lui ha fatto sempre in modo che la sua squadra non facesse del male ai civili, ma anzi si è sempre prodigato perché i civili fossero protetti nelle zone delle scossi di guerra. che ricordo in particolare questa vicenda in cui in un villaggio incontrò una ragazzina che stava cercando di raccogliere del cibo da un bidone arrugginito dove sembrava che non ci fosse niente e lui ha sentito il moto, la necessità di fare qualcosa per questa ragazzina che ha dato il cibo che aveva, tutti i soldi che aveva ma la vera cosa che ha continuato a procurargli dispiacere negli anni, un rimorso, era l'impossibilità da parte sua di poterla prendere e portarsela a casa portarla via di lì, portarla in un altro posto che non fosse questo luogo di guerra grazie a tutti war brings out the best in us and the worst in us and that's what is important as part of being in the warrior to heal the warrior you've got to know all the stories the secret but the stories we don't tell is what poisons us it's the secrets that we keep that poison us and so I think it prevents us from being able to have a clear picture of how war impacts us and how it devastates but how it also in times of you know moments where you're seeing your it brings out that your humanity in even the worst of situations and those stories need to be told as well thank you I think it's important to share this story of courage perché la guerra purtroppo tira fuori dalla stessa persona il peggio e il meglio che esiste in stessa persona e come ha detto prima Patrizia non c'è una regola da applicare perché avvenga l'una o l'altra cosa e quindi è fondamentale poter raccontare queste vicende perché la guarigione del combattente interiore dipende anche da questo dipende dall'accettazione di un'esperienza che è complessiva quindi è fondamentale anche condividere queste cose al di là delle attese e quindi ci succede anche per la zona di lotta come un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di essere e però ci sono un'esperienza di essere e quindi la politica è molto più bella che si chiama e anche cinere eccello e anche di tutti sospitzare l'esperienza and aspects of war we can see from cinema we can see from lots of movies or books so video games that seems to draw some some sort of pleasure from gory scenes and after cruelty is as though it was something nice to sell and to tell and to understand why this happened because it's very it's to talk about the bravery and the act of courage it just becomes something that is connected with the old-fashioned and idea of the heroes heroes are good and young and smart and all the others are just uh poor soldiers who are doomed to be uh shameful and perhaps damaged for the rest of their life before you you answer i'll just translate very quickly purtroppo mi sembra che ci sia una tendenza a soffermarsi molto sull'estitizazione del di ciò che è orribile in guerra la violenza la crudeltà gratuita non si capisce bene perché forse perché perché è una cosa che vende anche perché crea una divisione molto semplice buoni e cattivi forse perché risponde a questi meccanismi però sembra quasi invece che parlare di ciò che è coraggioso e giusto sia subito immedesimato con la vecchia idea dell'eroe gli eroi sono giovani belli gli altri soldati sono semplicemente destinati a esperienze di anonimato di vergogna o forse ad essere condannati a vita ad essere danneggiati da questa esperienza che vivono what do you think about that no i think there's uh there's a lot of truth in what you say the fact that uh there is we tend to be drawn towards that uh the sensationalism of the of the of the atrocities of the horrors the things that we can do we have that attraction what that ends up doing is it paints the picture of a veteran or a warrior as something's wrong with him or her that they're a monster that they have this and so it keeps us distant from the vast majority of the veteran communities and the warriors around the world who are not that way who were forced into it who were good human beings who felt called to this to this this path and who who wanted to embody who wanted to protect who wanted to defend who wanted to preserve liberties and and to do those that's where they went to it and they were faced with all of the horrors that war entails and they were forced to make moral decisions and situations that most of us didn't have to make and what would we do in those situations what would we do in those things and so many of them made the right choice so many of them made the hard choice that they don't people don't know about but when you focus it as there's a problem that they've got some kind of pathology you do a major disservice to the entire veteran and warrior community around the world that are carrying these wounds and we can't help them because you think of you're you're focusing on the the extreme and you're not embracing the totality of what the warrior experience is and who they started out with from the beginning so in a certain way in this way you know your knowledge your mind is direct to think in that way so it's always a sort of prejudice so you are veteran so since in my mind i have that picture you should be like that but it doesn't work it doesn't help it doesn't work it's not we're not all that way most of us are not and that's most of us are such good people charlie you have to say that you have to say that you have right there there is this tendency to to make in lieu of the aspects of the war etc but in reality there is no such a division between eroi and i soldati semplici per cui soldati semplici che sono sempre visti come un cliché possiamo dire no l'applicazione di un cliché sì che compiono mostruosità perché sono moralmente degradati questo qui non è assolutamente vero molti di loro molte delle persone che sono andate hanno fatto la guerra hanno dovuto scegliere e devono sempre scegliere in quel preciso istante come fare qual è la cosa giusta da fare e questo la gente comune che non va in guerra non lo sa e soprattutto avendo in mente questa divisione no di eroi buoni e soldato comune moralmente degradato nel momento in cui c'è questa necessità del veterano di parlare della sua esperienza di di aver la possibilità di poter curare questa ferita e inevitabilmente gli viene legata perché si applica questo questo cliché dato da questo ritualismo io completely agree thank you thank you thank you thank you thank you this happened a very long discussion between language see the prejudice and the picture that we have in mind and edit we are working a lot on this on different levels also so i hope really hope that we will see again in the future and we can also work together share more in the future collaborate because uh yes it's not just important for the audience but it's important for us really so listening to you is important for us to think about diversity my father also was a military man so i admit i have a lot of prejudice about that but um yes it is really important to really destroy the prejudice and to let the mind and the people uh to think uh critically think and to open to the other students so that they also can improve and as the greeks they notice their phone so knowing yourself that was great i think it's great i loved it it was wonderful i think it's great i think that in the future would be beautiful to continue to collaborate with them because we have learned a lot from them because we have learned a lot from them and it is not just a fact of getting into knowledge of these facts but this exchange of information serve is i just wanted to say that um i as a vietnam combat veteran will gladly share my story the good the bad and the ugly with anyone that wants to hear it that's great and i will tell you from my heart without any without any fabrication or bullshit uh so i'm out there thank you belle don't learn this far from it ed è fondamentale questo per chi vuole ascoltare questi questo è il punto ascoltare è molto molto difficile è un arte che si acquisisce noi non siamo più molto esperti in quest'arte quindi è fondamentale alla base del metodo di di edward e alla base del percorso che gli ospiti hanno fatto anche insieme con noi ok we think that uh the time is uh to avuto uh and now you can go to sleep Grazie a tutti. Ma il significato era lì, viene fuori dei tuoi parole, dei tuoi espressioni e è stato molto, molto inspirato. Siamo molto felici di aver tradotto questo libro. Siamo felicissimi di aver tradotto questo libro, lo facciamo vedere adesso bene al pubblico. Questo è il libro. Per tutti quelli che non sono potuti venire qui stasera, il libro può essere acquistato online, direttamente dal sito dell'editore o su vari canali online di e-commerce, da IBS ad altri. Quindi questo è il volume, il ritorno del guerriero di Hedtik. Grazie a tutti quanti, grazie ai nostri ospiti, grazie al serenore di Senso. Io sono particolarmente felice di partecipare a questa diretta e credo che ci sia qualcosa che ha a che fare con la provincia di Cuneo. Perché non soltanto Lutro Revelli, ma fatemi citare anche Anna Bravo e Anna Maria Bruttone, che hanno lavorato a lungo su temi come questo. Ringrazio tutti, thank you very much everybody. Chiudiamo qui la diretta, grazie anche a chi è rimasto qui fino a questo momento a seguire questa diretta. Grazie. Grazie. Thank you. Thank you very much. See you. Ciao. Thank you. Tutti, have a good day, a good night. Good night, good day, whatever you are. We hope to see you. Thank you very much.